Dopo un brevissimo preludio propedeutico necessario a familiarizzare con la scrittura barbara di Céline, veniamo subito scagliati insieme con il protagonista del viaggio, Ferdinand Bardabou, vent'anni prima, nell'incubo della guerra, di cui il narratore sottolinea immediatamente l'assurdità, l'insensatezza. Immerso nell'inferno delle fiandre, esposto a una pioggia metallica di proiettili che non hanno bisogno di nubi per scatenarsi, o forse sarebbe più giusto dire che le nubi sono nei cervelli dei soldati, Bardabou si scopre così insignificante come mai prima nella sua giovane vita. La guerra è un evento che spacca in due la vita di Bardabou, segnandola negativamente per sempre. E qui e ora, nell'esperienza limite della guerra, assurdamente e insensatamente feroce, che nasce quella critica dell'intera civiltà occidentale e dell'intero genere umano, che si impone come il motivo tematico e filosofico morale principale del viaggio. La fiducia dell'uomo, anche in se stesso, si sgretola per sempre, lasciando spazio a una consapevolezza disperata e disperante che sfoce inevitabilmente nel nichilismo. Morto Dio resta l'uomo. Morto l'uomo intrinsea resta il nulla. Questa è la conoscenza negativa di Céline Bardabou. Viaggio al termine della notte, ovvero viaggio al termine della guerra. La guerra è la notte. Una notte lunghissima funestata dall'incubo della morte. Una morte assurda e insensata, per di più. La morte è ovunque in agguato nella notte. Puoi solo restare lì e attendere se sarai la prossima vittima delle innumerevoli volontà omicide. Oppure il fortunato sopravvissuto, che potrà testimoniare al mondo intero quanto faccia schifo il genere umano. Il viaggio è il primo risultato letterario narrativo di quella conoscenza negativa acquisita da Céline Bardabou sul campo. E dopo le fiandre verranno l'Africa, gli Stati Uniti. La Francia proletaria prima è pazza poi. Frutto di una ragione morale ed etica che può passare inosservata. Sommersa dalla scrittura barbara, talvolta maleducata dell'autore e dal suo nichilismo spesso cinico, beffardo e compiaciuto di sé. Ferito gravemente, Bardabou lascia il fronte e rientra a Parigi per la convalescenza. Ha una storia con Lola, giovane americana responsabile delle frittelle, così superficiale da rasentare la stupidità. Bardabou, dopo essersi imbattuto durante una passeggiata in compagnia di Lola in una vecchia bancarella di smessa del tiro a segno, la cui vista lo rende di fatto consapevole che non si libererà mai dell'incubo della guerra, perde la testa. È proprio a partire da quel momento, credo, che la mia testa è diventata così difficile da tenere tranquilla con le sue idee dentro. Da questo momento, Bardabou sprofonda in uno stato di inquietudine perenne, irreversibile. La guerra è entrata dentro come un male incurabile e non lo lascerà più. La notte lo ha avvolto e ricoperto come un secondo strato di pelle. Venne ricoverato in un liceo riservato ai feriti con disturbi psichici. Queste le possibilità dei loro destini. Il manicomio, che ritorna al fronte, più spesso la condanna a morte. Sin dall'inizio del romanzo, Bardabou non ha alcun timore. Non ha alcuna vergogna di confessare la propria paura. La consapevolezza della propria debolezza è la sua grandezza, con la guerra che lo precipita in un ichilismo disperato e disperante, che non salva niente e nessuno, in primis se stesso. Fra dieci mila anni, ci scommetto che questa guerra, per quanto sublime ci sembri adesso, sarà completamente dimenticata. Sarà tanto se una dozzina di eruditi si accapiglieranno ancora qua e là, circa le date delle principali ecatombi che la resero famosa. Lola, la superficiale sciocca Lola, patriottica a buon mercato, a colpi di frittelle che hanno il solo effetto collaterale di farla ingrassare, se ne va, disgustata, senza dire niente al suo uomo. Le guerre non scoppiano mai all'improvviso, sono sempre precedute da segnali infallibili, come rivela a Bardabou il professore di storia Prinshar, anch'egli ricoverato nel liceo. E avverto, quando i grandi di questo mondo si mettono ad amarvi e che vogliono ridurvi in salsicce da battaglia, è il segnale, è infallibile. Prendiamo appunti, memorizziamo. Non si guarda mai con troppo sospetto ai grandi di questo mondo. Bardabou, convalescente della malattia della paura, passa ad un altro istituto, centro neuromedico vestito dal patriottico maestro Bestombé, che cura i suoi malati con l'elettricità per il corpo e per lo spirito, con poterose doti d'etica patriottica, con autentiche iniezioni di morale ricostituente. La catastrofica rettolica nazionalista fatta scienza. Bardabou si ritrova così preso in ostaggio dalla parte giusta della situazione dove regnava una consegna sorridente ma implacabile, eliminare noi altri, noi, carne destinata ai sacrifici. Maestro Bestombé, come l'ola e come i grandi di questo mondo, mica è la loro la carne da sacrificare. Facile così riempirsi la bocca di belle parole. Mollato dagli altri papaveri e segnato in testa per sempre, Bardabou si imbarca per l'Africa. Un viaggio tutto sommato piacevole, tranquillo, ma solo fino alle coste del Portogallo, passate le quali, nello sgradevole, appiccicoso viscido, brodoso tepore tropicale, l'ammiraldo a jeton diviene un inferno, con l'uomo bianco che rivela tutta la sua natura spregevole. Così, passato il Portogallo, si sono messi tutti sulla nave a liberarsi rabbiosamente gli istinti, alcol aiutando, e anche quel sentimento d'intimo piacere che procura l'assoluta gratuità del viaggio, specie ai militari e ai funzionari in servizio. Sentirsi sfamati, alloggiati, abbeverati a gratis per quattro settimane consecutive, a pensarsi è di per sé abbastanza, non vi pare, per avere un delirio economico. A me, solo pagante del viaggio, mi trovarono di conseguenza, quando questa particolarità fu risaputa, singolarmente sfacciato, decisamente insopportabile. Il massacro coloniale inizia da qui, dal viaggio, con l'uomo bianco, che denudato di tutte le sovrastrutture settentrionali, freddo e lavoro, si dimostra per quello che effettivamente è, una bestia feroce, un carnefice e un predone senza pietà. Nell'inferno di perdizione, che divenne l'ammiral Brajeton, superate le coste portoghesi, addosso a Bardamou, l'unico pagante del viaggio, viene cucito l'abito dello sporcaccione infame e ripugnante, dell'immondo, fuggito dalla Franza per chissà quale scandaloso e spregevole motivo. Una spia, uno stupratore seriale di Milorenni, forse, e tutti iniziano a tramare alle sue spalle. Alla fine, l'erboruto e moralmente sfatto capitano dell'amiral Brajeton tende un agguato a Bardamou, che riesce a salvare la pelle con l'eloquenza, sfoderando un'orazione vibrante e indecente sulla patria di cui è stato streno difensore in guerra, nelle fiandre. Céline poglia l'uomo dell'eroismo, il più delle volte manifestazione estrema di una stupidità cieca, la bestia, e rivaluta la paura, arma e virtù. Bardamou non ha mai il timore di raccontare una sua fuga a gambe elevate dal pericolo. Tornando all'episodio sull'amiral Brajeton, è questo l'unico caso in cui la Franza salva la vita al protagonista. Bardamou deve spingersi fino in Africa per scovare un uomo buono. Il sergente Alcide, che si seppellisce nella foresta per campare la nipotina di cui sono morti entrambi i genitori e di cui possiede appena qualche lettere e un ritrattino. che custodisce gelosamente come il suo tesoro più prezioso. Il viaggio è un bestiario di farabutti, di malvagi, e solamente due figure si distinguono in questa massa in forme di cattiveria più o meno crudele. Alcide è la prima, il primo messaggero d'amore, la prima luce che squarcia le tenebre notturne. Bardamou assume il controllo di una fattoria nel cuore della foresta per conto della compagnia a Porturie, prendendo il posto di Robinson, il soldato disertore incontrato nelle fiandre e ritrovato poi a Parigi. Bardamou, sfinito dalla febbre, non resiste molto a lungo nella foresta e dopo aver bruciato la capanna, rifugio di vermi disgustosi, insieme con la poca merce della compagnia Porturie che conteneva, fugge nell'ignoto. Non perde tempo a spiegare, a tentare di farsi capire, ma fugge e basta, o al massimo utilizzerà quel che resta della sua facoltà d'espressione per denudare se stesso agli altri, come fa a Selim Bardamou con il viaggio. Bardamou, trecinandosi nella foresta attraversando fiumi sconosciuti, giunge a Santa Peta, colonia spagnola. Sfinito dalla malaria, viene imbarcato su una nave senza che egli se ne accorga neppure. senza che egli ne abbia affettiva conoscenza, distrutto dalla febbre. Ma comprende di essere stato venduto da un prete all'armamento di una galera spagnola, l'infanta combitta. Rema e delira, delira e rema, rema, delira e trema, fino all'arrivo della galera a New York. Bardamou, che può finalmente realizzare il suo desiderio di visitare gli Stati Uniti, non si lascia scappare l'occasione e fugge dalla nave, infrangendo l'obbligo della quarantena. Diviene un agente contapulci, talento scoperto e sviluppato, affinato nella pancia della galera. Bardamou ci sa fare, ma abbandona il servizio e si mescola ai poveri di New York, trovando rifugio in un hotel decisamente troppo costoso per lui, di cui occupa, da buon ultimo, l'ultima camera, la più infima, sperduta ai confini del labirintico albergo. Affamato, senza un soldo bucato in tasca, privato persino del conforto estremo del sonno, Bardamou vive uno di quei momenti terribili, da incubo, in cui neppure la masturbazione può regalare un istante di distrazione. Nella metropoli americana, dove si carica colpi di film, quasi il cinema fosse una droga, Bardamou copre un genere di solitudine ancora più radicale di quella africana. Scopre di colpo la propria nullità, mentre la guerra gli aveva rivelato la propria inutilità e si avvicina alla non esistenza. Bardamou è tranguciato dall'ultracapitalismo americano, che nella metropoli si annida in ogni angolo, cancro maligno, confuso nella grande marmellata degli uomini nella città. Marmellata disgustosa, indifferente, ottusa. Bardamou è figlio di una metropoli, Parigi, ma New York è una metropoli di tutt'altro genere, ben più stancante, straniante e disperante, con il suo babelico sviluppo verticale e il dominio incessante dell'ultracapitalismo, che stabilisce esigenze, necessità, tempi e stili di vita. Di fatto non c'è intimità nella riflessione, una specie di fiera mancata, tomachevole, che si intestardivano a far riuscire lo stesso. New York è nauseante, nelle sue strade gli uomini sono personificazioni dei dollari che tengono nelle tasche e niente di più, automi vuoti, manovrati dall'interesse. Bardamou si trova così in uno stato di sospensione, di distacco, che rappresenta l'esclusione estrema. E il viaggio è proprio la ricerca di questo niente assoluto. Bardamou lascia il labirintico hotel senza pagare il conto e scova l'ola alla quale riesce a sfilare 100 dollari e una minaccia di morte, la rivoltella puntata contro. Con questo piccolo capitale si trasferisce a Detroit. A Detroit, Bardamou trova lavoro nella fabbrica della Ford, stordente e alienante ricovero di uomini perduti. fantasmi quasi provenienti dai quattro angoli del mondo. Tutta la sua paga giornaliera finisce in un bordello. Entra presto in intimità con una giovane prostituta, Molly, che inizia a frequentare al di fuori del postribolo e che mostra un sincero interesse per lui, esortandolo a lasciare la fabbrica e a trovarsi un nuovo lavoro, più consono le sue attitudini, magari come traduttore. Creatura quasi dostoglieschiana, miracolosamente pura, nonostante il mestiere infamante, Molly, dopo e con Alcide, è l'altra figura positiva del viaggio, l'altro messaggero d'amore, altra luce fulgente che squarcia le tenebre notturne. I due personaggi incarnano le superstiti ragioni della dedizione disinteressata. Il saggente Alcide, che si segrega nel più remoto angolo d'Africa per mantenere agli studi una nepotina che non ha mai visto, l'uomo che ha in sé tanta tenerezza da rifare un mondo. E la prostituta Molly, diventa negazione dell'afasia morale degli americani, colei che fa vergognare Bardamu di aver pensato che l'umanità è più turpe di quello che realmente è. Alcide e Molly si impongono come ultimi baluarti della speranza, ultimi rappresentanti di un sentimento umano positivo e puro in via d'estinzione. Se ogni uomo possedesse anche solo un briciolo della bellezza di Alcide e Molly, il mondo sarebbe di certo un posto migliore e conserverebbe un avvenire meno tragico. Ma i due personaggi rappresentano nel viaggio delle eccezioni, che confermano la generale regola di miseria, malvagità e violenza. Bardamu è perfettamente consapevole della fortuna che gli è capitata incontrando Molly, legandosi a lei. ma a causa delle guerre e delle rovinose relazioni sentimentali passati, come quella con Lola, che è arrivata persino a puntargli una rivoltella in faccia per levarselo per sempre di torno, ha preso la strada dell'inquietudine, si è svuotato, inalidito e non conosce più quiete oramai. Ecco per Bardamu la fuga. Ogni viaggio è una fuga. È un vizio e questo spiega molte cose. Innanzitutto la sua smania, irrazionale e indefessa, ossessiva di movimento che sembra quasi una manifestazione di mancata rassegnazione alla vita, alla miseria, all'insignificanza, all'insensatezza della vita, nonostante la lucida consapevolezza. Insomma, la vita fa sempre schifo. Che ci si trovi in trincea sotto una pioggia di pallottole oppure a passeggio con una donna buona e generosa come Molly. È questo uno dei messaggi più estremi e disperanti del viaggio. Nelle situazioni difficili troviamo consolazione nel pensiero dell'avvenire quando tutto sarà finito e ci immaginiamo che tutto tornerà bello ancora più bello di prima. Ma la verità bruciante è che la vita non migliora mai. Resta una sciagura, una disgrazia senza speranza né soluzione. Ed è così che tutti i buoni propositi fatti durante i momenti difficili alla fine naufragono presto nel nulla senza lasciare trazza. Lo dimostra con una chiarezza bacinante e scandalosa la storia. A una prima guerra mondiale ne segue a stretto giro una seconda e persino più atroce e sanguinosa della prima. La ferocia umana non ne ha mai abbastanza di sperimentare e mettere alla prova se stessa. Bardamé decise di tornare in Franza e terminare gli studi di medicina ma questa volta la fuga gli pesa davvero o impensierisce davvero come mai prima nella sua vita per via di Molly la prima donna che non lo ferisca e anzi l'arricchisca umanamente. La dio di Molly sa tanto di autolesionistica rinuncia all'ultima e unica di fatto possibilità di serenità nella vita di Bardamé. Gettare al vento un'anima candida un'anima salva come quella di Molly è davvero da folli ma ancora di più da incoscienti e stupidi. Bardamé sino a questo momento non è mai stato tanto folle e incosciente e stupido come ora. Buttavia una fortuna inestimabile per assecondare il suo vizio di fuga e se non lo rimpiangerà mai sarà solo per orgoglio quell'orgoglio velenoso da sopravvissuto che ricorda tanto quello altrettanto velenoso dell'uomo del sottosuolo. Anche il personaggio dostoieschiano rinuncia per orgoglio all'unica donna disposta ad amarlo anche in questo caso una prostituta. Bardamou torna dunque a Parigi e termina gli studi di medicina riempiendo i suoi giorni di studio e di lavoro necessario quest'ultimo per guadagnarsi il pane. inizia e inizia ad esercitare la professione in periferia a Garain-Rancy appena fuori Parigi ritrovandosi immerso nella più brutale realtà proletaria. Ecco dunque un'ulteriore chiarificazione relativa allo scopo della scrittura di Céline un attentato ai borghesi ben pensanti che si ritengono necessari e ignorano la loro miseria e soprattutto la loro colpa una dimostrazione ulteriore definitiva se vogliamo del carattere profondamente morale della scrittura della letteratura seliniana. in periferia gli affari vanno male anche a causa di quell'umanitarismo l'etaggio materno dura morire in Bardamù che proprio non riesce a farsi pagare dai poveri ed egli fa la fame tanto quanto ai suoi clienti in un ambiente che si conferma in tutto e per tutto alcol, violenze, torture domestiche uguale a quello dello scannatoio. Evidentemente il carattere brutale bestiale del proletariato parigino non muta nei secoli. Alle difficoltà materiali si sommano quelle spirituali. L'inquietudine si conferma il tratto caratteristico di Bardamù che li impedisce di fermarsi troppo a lungo in un luogo. Inquietudine come personificata da Robinson conosciuta in guerra nelle Fiandre poi ritrovato sistematicamente a Parigi durante la Convalescenza in Africa e a Detroit quasi fosse un elemento fantastico all'interno del romanzo il doppio. cose persone imputridiscono conoscono lo stato di decomposizione precoce mentre sono ancora in vita per l'inquieto Bardamù. L'opera stessa da questo momento in poi possiamo considerarla la seconda parte del romanzo inizia a sbracarsi e marcire a sfilacciarsi alimentando il sospetto che Selin si perda spesso troppo spesso in chiacchiere inutili compiaciute di se stesse dunque fine a se stesse sterili che non fanno altro che disperdere la corrosiva energia critica negativa del viaggio la sua vera forza la sua vera grandezza Bardamù non riesce a salvare il piccolo Beber il viaggio non è affatto amorale ma è basato su una morale personale individuale anarchica e nichilistica frutto della consapevolezza della miseria dell'insignificanza dell'insensatezza dell'uomo e della vita che mira a distruggere la morale convenzionale dell'umanità con tutte le sue ipocrisie ridicole e feroci in ogni caso insopportabili la guerra gli aborti gli omicidi nascosti le violenze domestiche eccola qui fissata chiaramente nero su bianco la nichilistica consapevolezza di Bardamù che vede e rappresenta tutto l'uomo la vita l'intera civiltà occidentale per quello che effettivamente sono niente dovremmo capire una volta per tutte dopo tante innumerevoli tragedie dopo tante innumerevoli morti ma non capiamo se capissimo il genere umano si estinguerebbe pacificamente senza spargimenti di sangue nel giro di un paio di generazioni non di più sarebbe mica male visto che tanto non sappiamo fare altro che spargere dolore su questa povera terra colpevole solamente ospitare le condizioni necessarie allo sviluppo della vita Robinson tormenta Bardamù anche a Ransy infischiato in un fattaccio un tentativo d'omicidio in cui è lui a rimettersi perdendo la vista il protagonista riesce finalmente a liberarsene convincendolo a trasferirsi nel sud della Franza a Tolosa e ricevendone anche i 2000 franchi in cambio di questa attività di persuasione Bardamù crede che la sua vita possa finalmente decollare ma si sbaglia per di più si ammala di brutto costretto dieci giorni a letto pianifica la sua fuga da Ransy l'ennesima non si può sperare di mollare la propria pena in qualche angolo di strada è come una donna mostruosa la pena e tu te la sei sposata forse è ancora meglio finire per amarla un po' invece di dannarsi a picchiarla tutta la vita perché è chiaro che non la puoi accoppare raccontare la propria pena come fa Selin nel viaggio è forse una manifestazione d'amore affatto non è che l'ennesimo è inutile tentativo di liberarsi di lei di ammazzarla Bardamù lascia dunque Ransy e trova un impiego come comparsa nel cinema Tarapù tra ballerine rondinesi affascinanti e inconsapevoli lasciato l'impiego al cinema Tarapù per via di una tresca con una ballerina polacca subentra una ballerina londinese malata Bardamù va a trovare Robinson a Tolosa qui ha un'altra tresca con Madeleine promessa sposa dell'amico doppio l'ennesimo legame privo d'umanità in fondo tutti i legami di Bardamù sono privi d'umanità tranne quello con Molly tornato da Tolosa Bardamù trova un posticino nell'asilo psichiatrico di Vigny-sur-Seine Bariton direttore dell'istituto psichiatrico soggiogato dalla cultura anglo-sassone se ne va in Inghilterra lasciando a Bardamù la direzione dell'asilo a questo punto ricompare Robinson che ha lasciato Tolosa riacquistato la vista ma Céline ha sviluppo a tal punto l'esistenza umana che dopo l'esperienza in America a Detroit tutti i fatti che lo coinvolgono al ritorno in Franza non suscitano alcuni interessi scivolano via velocemente senza trasmettere niente senza lasciare trazza Pierre-Will e Robinson e tutti gli altri con i loro maneggi svaniscono nel nulla indifferenti in fondo anche Bardamù per le beghe del suo doppio non prova più alcun interesse allo stesso modo il viaggio termina molto prima che termini davvero Bardamù è ormai definitivamente svuotato noi lettori con lui e se ne sbatte di tutto sulla via del nulla assoluto nella seconda parte del viaggio Serene Bardamù non racconta che pene minute di cui avremmo fatto volentieri a meno come se la nostra vita non ne fosse già piena quella esaltata di Madeleine finisce per sparare due colpi di rivoltella in pieno ventre a Robinson in taxi di ritorno da una domenica fallimentare passata alla fiera Bardamù è ormai inaridito dal punto da non saperneppure aiutare l'amico a morire termina così il viaggio con la morte di Robinson del doppio dell'inquietudine e con il rimpianto di Bardamù di non essere stato capace di farsi un'idea più forte di tutte al mondo alla fine del viaggio cosa resta resta l'uomo solo velocemente cosmicamente solo e nudo in tutta la sua miseria la sua piccolezza la sua impotenza la sua bestialità la sua ferocia la sua inutilità e la sua insignificanza spogliato di tutto anche e soprattutto della fede in se stesso l'uomo denudato si mostra per quello che effettivamente è un nulla infinitesimale perduto nel nulla universale uno spettacolo ridicolo insomma di cui si può ridere di cui ci si può sdegnare oppure vergognare sarebbe forse quest'ultima la reazione più giusta più onesta ma di cui non si può provare pietà mai resta inoltre la notte perché l'intera storia dell'uomo quella che è stata e sarà è una notte una notte lunghissima povera e sanguinosa in cui brillano quella parsi nei secoli rari bagliori come Alcide e come Molli che sono esistiti esistono ed esisteranno nonostante tutto nobilitando nel breve arco delle loro fulgide esistenze l'intero genere umano ma ai noi senza cambiarlo nobilitando 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 nobilitando